E' tardi. 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 Guido. 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 Che brutta storia. Mi dispiace davvero per te. E' tardi. Mi hai sempre sottovalutato. Peccato. Saremmo potuti essere amici. Perché lei non si sa con quale diritto viene qua. Scusi eh. E' vero che il bambino viene utilizzato come mediatore in compravendite con partner asiatici? Guido. Ma che? Ma il mediatore compravendite. Ma gli ho fatto tradurre due cosette. Esatto. E' vero che il bambino viene utilizzato come chiromante alla fine di ingraziarsi i vicini. Mamma mia chiromante. Ma no. Semplicemente ho fatto un favore a una vecchia del palazzo. Proprio una matta. Ma che te scrivi scusa? Perché scrivi? Il bambino ce l'ha fidato. E' nostro. Punto e arrivederci. Faccio presente che il bambino non è una proprietà. Lei si sta attaccando alle parole. Veramente. E poi la smetta di scrivere. E mi sta facendo vivere l'ansia. Pensa che Perla, che è una mezza amata, lo adora. Ma non c'è bisogno che tu mi dica che... Mi piace anche a me. Mi piace anche a me. Così? E che cosa mi stavi dicendo? Che lo adoro anch'io? Eh sì. Eh sì. Senti, è arrivato Enrico. Ecco le mie condizioni. Se ti pensa, muore. Se ti fa ridere, muore. Se ti sfiora, muore. Qualcos'altro? Voglio un bacio schifoso. Tu Adele non la sposerai mai. Hai capito? Stai attenta, Anita. Chi pensi che ti crederà quando dirà che menti? E tu che cosa credi che penserà la signorina Adele quando saprà che non sono la prima cameriera che ti porti a letto? Prendi quei soldi. Te la ricordi, Caterina? Prendi quei soldi. Te la ricordi, Marco? Vai a Merano. C'è un dottore lì. Lo sai meglio di me cosa fai. Ti ho detto che non voglio! Non ce lo farai. Non giocare con me, Anita. L'hai più vista, Caterina. Prendi quei soldi. Prendi quei soldi. Però... So che con quel poco sarò molto più felice. e immagino che non ci incontriremo mai più. Se puoi perdonami, Marco. Addio. Resta così. Non ti svegliare. Finché dormi sei il mio segreto. Da sveglio sarai vero. E di tutti. La 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 la... La 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 la... Grazie a tutti.